si facci facci dadi facci dadi uscite di lì, girala così dai dai sei così sempre sulla palla sempre bravo a farli, bravo a farli forza, forza forza che vede finita buona botta bravo Fabri bravo ma non bravissimo dai bravo Pisa perfetto dai Giulia dai vedi ah cazzo la saltata vai volare uomo dietro bravo Robi bravo Robi bravo Robi Sposto i diri, sposto i diri e ti senti meglio la difesa. Salire, fuori, 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 fuori. Alza lì, alza lì, alza lì. Arbitro, cambio, ci siamo con i numeri, vieni Fabri, Ghiri, a sinistra, Rosso viene a centro. Andiamo, andiamo, forza, stretto, eh. Dai noi ragazzi, andiamo, 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 a sinistra. C'è qua, c'è qua Giulian, c'è qua Giulian. Vai Giulia, vai Giulia. Nadia, Nadia. Maghiri.